A preso spunto dall'epistodio evangelico narrato da Luca al versetto 47 del capitolo 7 in cui Gesù perdona la donna peccatrice in casa di Simone il Fariseo, la riuscita è partecipata a assemblea pastorale di Ocesana di Gaeta svolta presso la chiesa del Bombastore nella frazione di Penitro a Formia. Nel convocare l'incontro dal titolo Perché ha molto amato la chiesa casa accogliente il nuovo arcivescovo Monsignor Luigi Ivari probabilmente ha voluto anche attualizzare l'invito formalizzato alla chiesa del Golfo il giorno e 9 luglio scorso del suo insediamento. Vedremo insieme passo dopo passo quello che serve fare secondo quello che l'ospedito suggerisce. Ed è così no? È così perché è un po' lo stile della chiesa questo sempre e adesso si sta riscoprendo si chiama lo stile della sinodalità cioè del camminare insieme, vedere insieme che molte volte è solo un modo di fare ma richiede un cambiamento di mentalità. Nella due giorni dell'assemblea pastorale di Penitro caratterizzata da momenti di riflessione e gruppi di studio monotematici il neopresole ha chiesto ad ogni cristiano uomo e donna di buona volontà di far emergere il tanto bene che già in atto nella chiesa e nella società ma anche di evidenziare i limiti e i problemi del nostro tempo per delineare il cammino pastorale dei prossimi anni. Per me è stata una grande gioia perché so che c'era questo appuntamento ma non pensavo minimamente che venisse scelta questa realtà e questa comunità. Anche se il vescovo quando è venuto ha visitato l'ambiente, la chiesa mi ha salutato dicendo sicuramente faremo qualche momento bello diocesano in questo luogo. La comunità parrocchiale di Penitro è stata davvero lieta di aver ospitato il primo vero momento sinodale del mantato episcopale di Monsignor Vari. Grazie. Grazie.